Egli spezzò il pane e lo diede ai suoi discipoli e disse Prendete tutti voi e mangiate Questo è il mio corpo Cos'è una tracenza presa il calice Di molti rese grazie a te lo trovo E del calice suoi discipoli disse Prendete E bevetevi tutti Questo è il calice di Gesù Santo Il sangue della nuova ed eterna Le anze misteri della fefe Fefe, fefe Ti piacerebbe? Enormemente Non ti scaccerebbe a fare una lega Cinque lega Due 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 lega L'apprendiamo a tanto. Che ti ho faiato l'estate trovato? Che non marchi il sciagge sulla terra con i nervi. Che cosa è? L'acqua sosta. Rimetti la mia. 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 Chi è venuto? Rattorio io.